E' dalla quinta elementare che non ci vedevamo. Beh, siamo state compagne di gioco e di banco per ben cinque anni. Ma che cosa stai cercando di dirmi? Ma che ti voglio portare fuori a cena. Anzi, visto che fuori ci siamo già, che ti voglio portare dentro a cena? Beh, dal momento che il mio appuntamento ormai è saltato, accetto volentieri. Non posso vivere lontano dal tuo amore. Ralf, tu mi mancherai. Credo che tu stia esagerando. Non sto via per sempre. Fra due anni tornerò. Come fai ad essere così insensibile? Salta su. Oh, atletico. Attenzione. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ma perché, signor Marrado? Come ma perché? E me lo domanda, signor Corrado. Ma scusi, ma inserire questa musica nella sua trasmissione, ma non è nel suo stile, scusi. Passi, passi per i b-hide. Ma i metà rock no, signor Corrado, no i metà rock no. Io, io sono molto dispiaciuto per lei, ma mi creda, sono costretto. Ma che cosa c'è? Ma signor Marradio? Che buono profumo. Come si chiama? Mary. Oh, oltre che bella è anche spiritosa. Ti devo chiedere in altro modo. Per esempio? Lascia, amore mio. Faccio io. Ti prego, Hilde, fammi sottomi. Marika, amore mio, mi presti la tua macchina rossa per andare in montagna?